Ecco a voi le nuovissime capsule di caffè Musetti. Tutta l'eccellenza del caffè, a casa tua, come al bar. Capsule Musetti, l'importante è ciò che hai dentro. Scoprile nel nostro shop online www.musettishop.com Capsule compatibili con macchine Nespresso. Il marchio non è di proprietà di Musetti SRL né di aziende ad essa collegate.